Il piacere di rivederti in occasione di eventi fieristici ci si incontra. Ci piace vedere il valore dei professionisti che sanno comunicare come SG Marketing. Oggi siamo nella regione Puglia, partner di McFruit 2024. McFruit, credo, trasformato, che sta tra due importanti fiere, però anche questa si è ricavata nel tempo il giusto spazio. Il valore delle produzioni. Possiamo partire dal prodotto per promuovere i territori. Dobbiamo partire dai numeri, dai numeri dobbiamo poi farli diventare dei marchi. La frutta, l'ortofrutta può fare ancora molto, credo. La frutta deve fare molto perché si trova di fronte ad una responsabilità concreta. Pensiamo che in Italia la sensibilità che il consumatore manifesta nei confronti della nostra categoria è altissima. La più alta registrata rispetto a questi anni. Pensate ad altre categorie. Vi nomino la carne, per esempio, che sta vivendo un anno orribile dal punto di vista del sentiment. E dunque chi oggi produce, commercializza e distribuisce ortofrutta si trova davanti ad una grande opportunità. E questa opportunità va colta partendo dalla nostra capacità di saper produrre e da una rinnovata attenzione su un fatto. Cioè che non basta solo saper produrre ma che è sempre più necessario riuscire a comunicare al meglio. Cioè ad arrivare a chi poi il nostro prodotto tecnicamente lo acquista e lo consuma. Tu hai detto una cosa molto importante. Una giusta distribuzione del valore. Purtroppo in agricoltura questo a volte non avviene. Questo in agricoltura non avviene. Però è anche vero che esiste una sensibilità. Io vi porto sempre qui la visione del consumatore. Che rispetto alla premialità vuole vedere come dire che questo valore generato poi diventi il reddito reale per chi produce. Ed è per questo l'attenzione nei confronti delle filiere e delle specializzazioni. L'attenzione nei confronti dei territori diventa attenzione rispetto alla comunità che abita. E quindi il compito per tutta la filiera che per quanto mi riguarda inizia e finisce dal consumatore finale ed ingloba la produzione, la distribuzione e tutti gli attori che operano al suo interno deve sempre di più stare attento a far sì che la generazione del valore non diventi vantaggio solo per una parte ma che diventi un modo per amplificare ancora di più il valore aggiunto su tutti gli attori. Alle nostre spalle un territorio? Un territorio che può essere rappresentato dai prodotti? Assolutamente sì. Siamo alle spalle della Puglia e la Puglia rappresenta insieme alla Sicilia un territorio che offre delle eccellenze in generale ma nello specifico l'uva che è un po' la categoria di riferimento del Mac Fruit di quest'anno e che si conferma tra le altre cose. Io sono ben felice di vedere la crescita armonica di questa manifestazione che abbraccia le filiere, le fa proprie, in questo caso l'uva di Puglia a suggello della capacità degli italiani, delle aziende italiane di generale valore vero. La Fiera del Levante vuol fare anche una fiera dedicata al l'uva da tavola ma fare una fiera con un prodotto unico non è cosa semplice. La Fiera del Levante vuol fare questo, mi sembra, a ottobre. Sì, vuole fare questo, vuole fare sostanzialmente sintesi rispetto al tema e alle sensibilità che il mercato ha sia sul fronte della produzione che della distribuzione realizzando una sorta di verticale, una fiera verticale all'interno di uno dei territori di riferimento per quanto riguarda l'uva di Puglia e dunque va a generare un momento forte che diventa un momento di approfondimento su alcune tematiche relative alla produzione, relative alla distribuzione, alla commercializzazione, coinvolgendo direttamente gli attori all'interno del territorio. Io credo che questo sia qualcosa che ancora una volta può diventare un elemento di amplificazione, di crescita culturale e manageriale delle aziende della produzione da un lato e dall'altro del distributore che poi ha il compito di valorizzare questi prodotti.